E perciò E è uguale a M, C al quadrato. Oh, signorina Mullins, prego. Mi scusi se la interrompo, ma la signora Lemmons ha sentito della musica provenire dalla sua classe. Musica? Eh, musica. Non ho sentito della musica. Ah, ah, sa che le dico che la Lemmons deve essersi drogata, eh ragazzi? Sì, sì. Beh, cos'è quella? Oh, quella, sì. Cantavamo, cantavamo e imparavamo. Imparavamo canticchiando le canzoni. Ah, uno dei suoi metodi? Sì, io penso che ti dia un aiuto notevole quando tratti certe materie, quelle di una noia mortale. Ah, bene. Non le dispiace se magari assisto alla sua lezione oggi pomeriggio? No, no, ci vediamo oggi pomeriggio. Eh già oggi pomeriggio, intendevo ora. Su, prego, faccia. Continui con il suo metodo. Sì, ok. La matematica ci va Ma non so dire quanto ci va Su fuori i quaderni e fate Matematematematematematematema Tre meno quattro fa Fa meno uno. Esatto. E invece sei per un miliardo fa Sei miliardi? Centrato Da quarantacinque a cinquantaquattro Quanto ci vuole, Marta? Nove No e otto No e nove Volevo vedere se stavi attenta Nove E questo è il magic number E questo è il magic number Questa è il magic number E questo è il ini fiscal